Un'occasione per ricominciare. Così la parrocchia Maria Santissima dei Rosali di Pompei accoglie i lavoratori di pubblica utilità, persone che hanno fatto errore nella vita. Un sabato santo passa dall'insegna della rinascita, così come la Pasqua ci insegna. Un'altra occasione di riscatto offerta dalla parrocchia di Mariconda a Salerno, che accoglierà i primi tre lavoratori che svolgeranno compiti dediti alla restituzione sociale. Questa collaborazione nasce grazie all'ufficio disettuale Esecuzione Penale Esterna di Salerno e alla sua dirigente la dottoressa Lachelin. Presente oggi anche il parroco di Mariconda Don Ancelo Barra, visibilmente commosso e consapevole della valenza sociale dell'iniziativa.